Buongiorno e bentrovati a tutti. Riprendiamo il nostro appuntamento settimanale al termine di un periodo di vacanze che spero sia stato per tutti proficuo, anche perché il settembre che ci attende è denso di una serie di impegni, di appuntamenti, di iniziative che per quanto riguarda la nostra associazione, in particolare culminaranno il 15 settembre nella nostra assemblea annuale. Quindi quest'oggi mi limito, oltre che augurare a tutti una buona ripresa del lavoro, a segnalare nuovamente questo appuntamento che si terrà, ripeto, venerdì 15 settembre a partire dalle ore 17.30 nella nostra sede di Monza, in Viale Stucchi. Si tratta di un'assemblea ad invito per la quale quindi chi fosse interessato a partecipare sollecitiamo l'invio di una richiesta di presentazione, di partecipazione, che vedrà assieme a noi impegnati esponenti di livello nazionale del mondo di confartigianato, vedrà presenti naturalmente rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali e quindi sarà il momento un po' per fare il punto sulle tante questioni che anche durante il dibattito estivo sono state portate all'attenzione del mondo dell'imprenditoria e della politica. Rinvio quindi a questo appuntamento e con la prossima settimana riprenderemo i nostri approfondamenti tematici.